E ripetete quello che io già dissi il 13 giugno 1946, quando lasciai l'Italia. Qualsiasi cosa possa succedere al nostro paese, io sarò sempre il più fedele dei suoi servitori, il più fedele dei suoi figli. Viva l'Italia! 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 L'Italia innanzitutto. Molti di noi hanno servito l'Italia comunque, conservando nel cuore il ricordo ed avendo la consapevolezza di una testimonianza che il monarchismo non era finito il 2 giugno del 1946. Fra di noi ci sono stati monarchici che hanno servito l'Italia nelle forze armate, hanno dato il loro lavoro, il loro sangue, la loro fede all'Italia comunque. Chi va l'Italia, chi va la monarchia? Chi va la monarchia? La Repubblica ha bisogno di una fase costituente, che sia l'inizio di un nuovo processo risorgimentale. Un nuovo risorgimento che rimetta l'Italia al centro, che riscriva delle regole condivise dopo quasi 80 anni dall'entrata in vigore di una carta costituzionale che aveva una sua razio nel 1948. Ma io credo che dopo 73 anni un articolo come l'articolo 139, che è una norma assai liberticida, non abbia alcun senso. Il popolo sovrano deve potersi scegliere le istituzioni che lo governano, perché se per l'articolo 1 la sovranità appartiene al popolo, deve appartenere sempre, anche se il popolo decide di cambiare la forma istituzionale dello Stato. Altrimenti è una finzione. E nella ridiscussione della carta costituzionale si potrebbe anche immaginare ed indicare come soluzione e come esempio, guardando l'Europa, di terzi età. La figura di un re, come diceva Fabrizio De Andrè, un re senza corona e senza scorta. Altizze reali, dolcissimi principi, voi rappresentate il seme, la speranza, in voi riposa l'ultima speranza di questo disgraziato paese. Di riprendersi il suo posto, non nel consesso delle nazioni, perché non ne abbiamo bisogno, ma di riprendere il suo posto davanti alla storia millenaria di cui siamo stati ispiratori e protagonisti. Probabilmente saremo ancora qui per celebrare il bicentenario. E quando anche fossimo rimasti quattro gatti, noi saliremo sui detti e dai detti urleremo all'Italia e al mondo. Il nostro solenne, sentito, consapevole, gioioso, viva l'Italia, viva il re! Invito il principe Aimone di Savoia, sul palco. Grazie a tutti. Semplicemente un saluto di chiusura. Mi ha fatto molto piacere sentire le vostre relazioni, gli interventi delle autorità che ringrazio per essere venute. E per fare una sintesi di tutto quello che è stato detto, invito tutti a ricordare il nostro passato, che è pieno di onore per avere un futuro migliore. Grazie a tutti. Buongiorno. Mi fa piacere essere con i miei figli. Salutiamo le speranze d'Italia! Grazie a tutti.